Ciao ragazzi, prima partita di calciato 5 per Gala Sport, cosa vi aspettate? Ma intanto di divertirci al torneo e di arrivare in fin fondo e avanti. Carichi una bella partita? Sì, siamo carichi, siamo una squadra che vuole vincere, siamo tutti nuovi, non ci conosciamo, quindi sarà dura però cercheremo di far bene. Dai un in bocca al lupo e buona partita, grazie ragazzi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. 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 dai. dai. a tutti. 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 a tutti.